Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Infipillicode a tratti per il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze-Scandici in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita la Strassigna provenendo da Firenze. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Poggi Bonzi e San Donato in direzione Firenze, mentre in direzione Siena sempre per lavori scambio di carreggiata tra Bargino e Tavarnelle, chiusura dello svincolo di Tavarnelle ancora in direzione Siena. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della tramvia fino al 16 ottobre in orario 22.5.30, restringimenti di carreggiata nel sottopasso di Viale Fratelli Rosselli e di vieti di sosta nel tratto da Via Lamanni al sottopasso. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!